Musica Benvenuti a tutti e un saluto in particolare ai bambini della scuola di Tissi. Benvenuti a tutti e un saluto in particolare ai bambini della scuola di Tissi. Deo, mi chiamo Giovanni De Logu. Deo. Io mi chiamo Giovanni De Logu. Tu è? Se sono il chudente. Issu e issa sono il chudentese. Boisi sezisi pizzinnoso. Voi siete bambini. Noisi semo tutti un pare. Noi siamo tutti insieme. O è una diesoliana. Oggi è una bellissima giornata. Derisi mazisi divertitu. Ieri voi mi avete divertito. Crasa mazisi a dare sa vita. Domani mi darete la vita. O è? Chico allegria. O è Deo? Chico allegria. O è? Oggi voi cercate allegria. Voi si. Voi si. Voi si. Facchete. Sa tanta sa meraviglia. Sa le tante meraviglie. Voi fate. Oggi tante meraviglie. Voi si. Voi si. Voi. In si studi. Usete si vattene. Cosa sa importante. Voi oggi negli studi state facendo delle cose importanti. Derisi oisi mazisi divertitu. Ieri voi mi avete divertito. Aio. Da voi in carrella. Non facciamo una passizzata. Chisiamo tanto tempo su. I settembre. Domani. Noi. Ci faremo una passeggiata se vogliamo. Perché è tanto tempo che stiamo aspettando. Sa cosa s'importante bostra sa. Le vostre cose importanti. Le fate oggi. Domani. E in futuro. Derisi. Comente mazisi divertitu. Appo risi dudantu. Ieri. Come voi mi avete divertito. Io ho riso tanto. Spero che domani voi mi diate la vita. E ma zis a dare tanta allegria. Quindi. Boisi. Crasa. Crasa. Mazis. A dare. S'allegria. Poeteosi. Poeteosi. Se zis in vita. Perché voi siete in vita. E Deo. Deo. Io. Sono contento. Deo so contento. E crasa. Si dotto anda bene. Domani. Se tutto andrà bene. Noi saremo allegri e contenti. Insieme a voi. Noisi. Saremo sallegroso. Un pari a boisi. Issa. Sino bienidi. Noesse importante. Ma noisi. Tutto andamusu. Se lei non viene. Non è importante. Ma noi domani andiamo lo stesso. Deo. Bozamiro. Poeteosi. Se zisi. Se zisi. In su. Presente. Ma zise. Puru. In su e grasa. Io. Sono contento di voi. Perché siete qui oggi. E domani. Mi auguro che voi mi diate tanto. Tu e mi da fastidio. Tu e mi da fastidio. Tu e mi da mattana. Cioè mi dai fastidio. Tu mi dai fastidio. Oe. Oe. Assa di esuliana. Nocandamusu a ipassizzare. Oggi. Alla bellissima giornata. Ce ne andremo a passeggiare. O forse ce ne andremo al mare. O fossi nocandamusa andare al mare. Tutto si articola su quella persona. Deo. Io. Tu e tu. Issu e issa. Lei e lui. Boisi. Voi. Noi. Noi. Tutti insieme. Quindi queste parti sono importantissime. Perché è la base fondamentale della lingua sarda. Per cui io in questo piccolo contesto ho voluto rappresentare il linguaggio comune, quello di consueto, che ogni giorno viene, come dire, parlato in lingua italiana ma anche in lingua sarda. Sono curioso di questa lingua perché l'ho parlata dall'inizio, dalla nascita. Vorrei che voi utilizzaste bene questo linguaggio che è stato sempre utilizzato dai vostri genitori e dai vostri nonni. Per cui noi tutti insieme, noi, dobbiamo cercare di costruire qualcosa sulla nostra identità. Per cui io vorrei che voi questa lingua sarda la utilizzasse tutti i giorni, lentamente, con questi personali Deo, Tue, Noisi, Voi e Issoso. Queste sono le semplicità dalle quali si nasce e si crea un'identità sarda. Quindi noi tutti, devimus, dobbiamo, dobbiamo, parlare la lingua sarda, fai dare salimba salda, perché poite, poite, ci servirà, nosada sevire. E questa è un'indicazione che io vi do e vi auguro nel futuro che voi abbiate il coraggio di parlare questa lingua. Grazie a tutti. Grazie a tutti.